ciao ragazzi come state? nuovo video asmr mi eravate rimasti vero? che non facciamo più video asmr infine no finalmente a fare video asmr eccomun qua per voi a fare questo benedetto video come state? lo spero bene? e niente ecco qua è solo qua per voi per fare questo benedetto video asmr ciao 3 seconda ed eccomi qua ragazzi a fare un video talmente ho messo il ho messo il vuol dire ho messo il microfono e spero che mi sentiate perchè almeno così ci facciamo un po' di compagnia e niente oggi oggi sono uscita si sono uscita oggi sono uscita e sono uscita fuori casa con la mia amica educatrice e mi ho fatto un bel poti si mi ho fatto un bel poti tipo secciata sono andata al centro da lì ho fatto l'albero di natale ovviamente si l'albero di natale e non lo so ragazze spero che questo video viaggia se è così mettete un bel like e supporto un commento e attivate la campanella per non perdere un po' sul video sul canale youtube niente cominciamo dunque questo video questo video questo libro questo video qua appunto questo libro lo sto leggendo un po' vedete c'è un costello c'è un costello c'è un dolore vedete si mette qualcosa si spero c'è un costello e niente questo questo libro io lo adoro non ho ancora finito per direzione però si fa molto male non ho ancora finito non ho ancora finito questo libro questo libro non lo sto solo divorando come parlo tra le tue ovviamente però mi stai piacendo è un po' un po' zonzo su questo libro nel senso che parla un po' di cose strane e curiose però è affascinante molto affascinante è affascinante troppo bello questo libro wow è topissimo 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 è fantastico io lo adoro questo libro niente in questi giorni sto mettendo una crema molto bella ne hanno un po' di solo un po' allora come un crema corpo sto mettendo sempre con questa tre alla leocremia 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 le stai mettendo questa tremilike lorraine qui non si vuoteva niente, l'ho avuto spegnere per forza questa qua ha paura da morire questa carne la metto anche sulle gambe perché è da buona, profumo delizioso calizzo, calizzo, calizzo sa di latte, di vaniglia, di tutto calizzo ora la metto qua dentro la metto qua dentro ragazzi questa crema la dolore di chi marca è? perché dipende della pupa 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 già e niente questa crema della pupa è molto buona questa crema della pupa è molto buona per le mani e anche per i piedi sto utilizzando questa lava vedete? ecco qua c'è anche per i piedi per i piedi la sto utilizzando fantastica, ottimale ecco qua e niente un po' è il prossimo libro che devo leggere aspetta un altro questo qui tiromeo e giulietta questo bellissimo libro di Romeo Giulietta adoro, 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 adoro William Shakespeare William Shakespeare William Shakespeare adoro William Shakespeare che è una parola di Romeo Giulietta e poi e poi la prima volta e quando la prima volta e poi E niente ragazzi, questo non è ancora finito il video tranquillo, allora, che c'è una luce? ma oggi qua è un bel pocetino bello, trova bello dalla pocitina adoro, adoro, bello, da pocitina è bellissimo 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 bellissima e ora ci sono stata appunto in giro a fare delle commissioni che ho fatto ricaricare il telefono che ovviamente non è andata a buon fine anzi è andata a buon fine si è scaricato in un di credito del telefono vabbè non come sempre io sono perchè vado sempre su youtube perchè si scarica il telefono cioè poi infine sono andata a buon giro giro così giro lungo l'arco per il pro con la mia amica di matrice dopo tempo ovviamente aspettate un attimo secondo ok vi dicevo ovviamente dopo di che siamo andati come dicevo per l'appunto al centro applicazione per lì siamo tornati a casa in macchina abbiamo fatto l'altra seconda posizione siamo andati in macchina macchina della mia amica di matrice è da lì è da lì è da lì indominata un po' è venuta a casa abbiamo fatto una tante tante volte che grado che grado che grado è da lì questa anche la amica mia o come si dice affermando questa monica di matrice dopo di che scusate scusate se si chiede l'amore di sottofondo alla televisione e uno non si sente quindi accende la televisione dopo aver fatto le luci vi dicevi ho fiammato la mia amica di matrice poi è andata ovviamente sono tornata per i fatti suoi per i fatti suoi sono tornata per i fatti suoi comunque ci sono ci sono si è venuta con la sua la sua voce perché prima avevo notato un altro video di trucco più di da battaglia è rimasto una sua voce che non ho cancellato ovviamente come capita sempre a me d'altronde non commentemi ciao riposate 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 ripos Bello, bello, bello Bello, bello un saluto a tutti gli amici di youtube ovviamente un salutino no niente ragazzi io vi lascio e ci vediamo un prossimo video Bello prossimo video fatemi sapere se avete riposato bene alla notte o un giorno fatemi sapere fatemi sapere fatemi sapere fatemi sapere fatemi sapere tanto 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 bene 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 siete bravissimi così rilassatevi 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 rilassate rilassatevi rilassatevi a presto ciao 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 ciao